No, no, sono contenta, abbiamo giocato bene oggi in doppio, mi piace molto giocare con jazz, quindi dai. È un messaggio a Piana? No, no, non è nessun messaggio, però ora cercheremo quando possiamo di giocare qualche doppio in più, quindi vediamo. Ah, mi fa piacere, mi fa piacere, non mi sento la stare del torneo, però mi fa piacere se la gente comunque vuole fare la foto o mi guarda o non so come dire. Il doppio sicuramente è una disciplina che devo giocare di più, anche il mio allenatore sta cercando diciamo di impormelo e mi piace molto giocare con lei perché penso che sia molto più costruttiva, io riesco a imparare molto di più e sicuramente non ne ho giocati tanti, quindi ho ancora tanto da migliorare, però magari cercando di dare un pochino più di continuità, insomma, spero di migliorare. No, il tapellone sicuramente non è stato dei migliori, cioè uno ha preso la testa di sei numero uno, lei la due, quindi sicuramente non è stato un tapellone facile. Però no, io sono contenta della mia partita ieri e domani gioco il secondo turno, sarà una partita dura come sempre con Laya Stremska, perché comunque è una giocatrice pericolosa che tira forte, però insomma cercherò magari di farla saltare un po' col dritto e però di base insomma l'obiettivo rimane sempre il solito, cioè di cercare di far gioco, di giocare profondo, di sbagliare poco e per non lasciare diciamo troppo il gioco mano a lei che diventa pericolosa altrimenti.